Musica Dopo il festival della scienza, ritornano i QR Code e questa volta per rimanere. In occasione della Notte dei Musei 2011 è stato presentato al Museo di Sant'Agostino il progetto QR Code in Genova, Azione Musei, nato dalla collaborazione del museo con il campus di Città Digitale. Da oggi dieci manufatti del museo sono direttamente linkati ai relativi video di presentazione e spiegazione. Un cellulare con una fotocamera, con un accesso a internet e scaricare un software gratuito che c'è per tantissimi cellulari. Dopodiché si lancia il software e la fotocamera riconosce automaticamente e il codice si connette. Il QR Code è una sorta di codice a barre bidimensionale che, attraverso le funzionalità UMTS di un cellulare o di uno smartphone, porta il navigatore su una pagina web. Il funzionamento è semplicissimo, basta puntare la fotocamera integrata su questo bizzarro quadrato e automaticamente si potranno fruire i contenuti collegati. Alla fine della visita del museo di Sant'Agostino, attraverso il QR Code si può inoltre dare un feedback sul servizio. E allora, buona visita!